non puoi vederlo su intimo esce su di più esce su di più no ma io magari lo faccio è lì chiaro non c'è un lavoro questa è la visione più in mezzo non ti ho visto spesso ridere con me te lo dico ti piace Lorenzo? fammi un sorriso se ti piace tu dici sì con un buon sospiro dimmi un po' se ti piace chiudi gli occhi chiudi chiudi come dici sì tu ah così ok bellissimo faccio vedere un po' le manine e l'ha anche dentro scusate ma e l'ha anche dentro bene bene va a vedere un po' uno due e fattata